Periodo decisamente intenso e stressante per la carnevalesca questo, a complicare le cose e a mettere sotto pressione lente, come normale che sia del resto, a tre settimane dalla prima sfilata con i carristi, che stanno lavorando a ritmi serrati. Le ultime cose da mettere in campo, le polemiche inevitabili per gli addi ai baci perugina e allo storico e proficuo sodalizio con il cioccolatino, il programma della manifestazione con le sue nuove scelte e gli addi, vedi la riuscitissima corsa degli uomini nudi dello scorso anno, depennata dal calendario degli eventi, si aggiunge anche il mancato quorum per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente, per raggiungere il quale si sarebbero dovuti presentare 170 soci, mentre deleghe comprese si è arrivati a quota 133. Noi una grande attività la stiamo dedicando a riconquistare la partecipazione e la partecipazione non si inventa, la partecipazione in generale non solo relativamente al carnevale è stata una competenza un po' trascurata nella storia recente, quindi anche noi, poverini, paghiamo il prezzo di una partecipazione generale perché la gente si è stufata di non essere partecipe oppure di partecipare solo con una lettera. È un incontro, una riunione di routine importantissima che comunque non scade niente, che rifaremo prossimamente con tutti i crismi amministrativi e augurandoci che sicuramente il carnevale, cioè nel frattempo le manifestazioni che riusciremo a realizzare diano anche più fiducia alla gente, esprimino ancora meglio quella credibilità che noi vogliamo cercare in mezzo a tante difficoltà perché poi quando si organizzano le cose le cose non sono semplici però ce le mettiamo tutte.